Ehi salve a tutti amici coperiari e ben tornati in questo bellissimo video su Tarko Vi scemo a Raffaele Salve a tutti Miracolo Chi segue da una vita sa chi è Raffaele Sta usando l'account di mio fratello Viste tanto mio fratello non ci gioca mai E gli è venuta quest'idea Di fare un video pazzo Di andare con l'APM E io ci ho aggiunto la cosa di andare solo con un caricatore da 84 Ora qui vedete che io non ho uno in più ma perché io lo devo dare a lui Abbiamo solo questo caricatore da 84 Solo questo caricatore da 84 Si va su factory Vediamo che cazzo succede in tutte le run che faremo E niente se voi avete in mente qualche idea di qualche altra challenge Tra virgolette pazza Scrivetelo e vedremo se le mie finanze potranno supportare tutto ciò Quindi ci vedremo nell'aldilà Più o meno Ok vai vai sono dietro di te dietro di te Aspetta di qua Di qua di solito spawn agente Si ma io non ho colpi Già è vero Eh quello che intendevo Devi darmi il caricatore Altrimenti è un problema Non stare lì che in fondo al corridoio ci spawn agente Tanta gente su qualcuno sul ferro A me piaceva sta mappa Perché sentivo Questo era un Uno scavo Però penso di abbia sparato un player O lo scavo ha sparato un player Non più che altro perché l'ho sentito parlare Calmi 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 Tutti matti Perché sembra che ci sia la nebbia ogni volta però Ma è vero è vero Sembra che ci sia la nebbia Tipo le luci sono tutte Offuscate Da lontano Vedi tutto Biancognolo Nebbia appunto Come mai Se sta cosa Sei matto a correre lì sopra Ma che ti sentono anche a New York Sono matto Sono matto Come sei andato matto Ecco Beh adesso sono tutti Perché mi ha sparato? Perché non scava Ah perché siamo Giusto 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 hai ragione Gli ho sparato un colpo in testa Non so se sei stato tu a ucciderlo o io C'è qualcuno di qua Lo sento a correre È sotto 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 Nel tunnel Madonna si matto Bravissimo Sai tutti Ok sono due ultrabardate Quello che ho detto prima Mamma mia Caricatore 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 Grazie Cioè se sei senza armatura Dovi venire anche senza il metto Ok c'è un altro bardato Parcour fai Un altro bardato Uno col Mosin Guarda come ci stiamo Tiamo Porca puttana Continua a sparare Continua a sparare Continua a sparare Sono morto Scusa tu non sei morto Ora si Conti colore Caricatore Ho sentito che siamo dentro Quindi avere la granata nel pocket C'è uno a destra L'ho visto Dove c'hai? Sono sdraiato Mi ha fatto Lanciato una granata Tutte e due le braccia Merda Adesso a sinistra Raffanotto a sinistra Ok ok ho capito Eeeh ne abbiamo ucciso uno C'è un altro eh Io mi sto curando Io guardo a destra Cioè ne abbiamo ucciso uno Ma cosa vuol dire? Abbiamo vinto Abbiamo vinto Tarkov Dimmi se lo senti che arriva dalla mia sinistra Magari era lui Probabile fosse lui Se c'è un'arma silenziata Si gli inculo l'arma Non ci sta È troppo grande Mettetela nel coso Raffan Ah è vero Eh si no Che nella mia idea era Non avere armi Quindi il mio cervello ha detto Non metterla Non ci provare Ho preso un tape mio Ci prendo le BR Poi Volendo ti do anche roba da vendere Così poi ricontri Prenditi il suo rig Il suo rig? Il tactical rig Hai ragione Perché hai sempre ragione Questa cosa mi dà molto fastidio Che dici? Ricarico Caricatore? Si Un po' di vasellina Non si sa mai Fa comodo Ah lo ricarico L'ho tolto nel modo sbagliato E non come mi ha insegnato Ha fatto l'animazione Mi ero dimenticato Non ho io eh Si si Questi sono i server americani Sono scarsi Mi ha corso in faccia Penso Perché ha visto Così Dov'è? Eh eh Boh Sto correndo Aspetta Ecco questo scav C'è uno scav a giro Io mi sto ricurando Io sto guardando Davanti a te a destra Ma perché mi ha Mi ha messo la cura Sul Su un braccio Che ce l'ho a zero Quanto è fatto male Dove deve curare C'è Hai fatto Tipo cura automatico Hai fatto heal Usa E l'ha usata Sì ho fatto E l'ho usata sul braccio rotto Cioè è completamente a zero E sono entrambi a zero Cioè non l'ho usato Sul torace Sul doc Vabbè è bello Ma com'è Le braccia a zero Sì tutte e due Eh questa è una cosa brutta Eh si Andiamo ad estrarre No Così se Che cazzo Così perdiamo i caricatori Ci divertiamo Ma con le braccia a zero Quali sono le penalità Tremo quando miro Sminchio ancora di più la mira E ci metto di più a mirare Beh non miro E perdo più stamina quando miro Però è una pistola Dovrebbe cambiare molto E infatti non la perdo Però va benissimo Cioè Painkiller Gnammi E si va a comandare Sì sì c'è ragione Io come sono messo Non mi ha toccato neanche una volta Hai sentito qualcuno Ha deciso di non morire Sì no Io l'ho colpito Ok non in testa Ma comunque l'ho colpito Un po' di volte Mi hai rifatto malissimo Che palle Da mezz'ora Non so che a curarmi Adesso devi ricominciare da capo Vaffanculo Si estrae Io non c'ho mai Di sta mezz'ora a curarmi Vieni Ah sì Si estrae da dove siamo entrati Sì perché c'ho la chiave Ficca Vuoi che ti do Roba Così la vendi No vaffanculo Vieni L'hai ucciso Vabbè al massimo mi compro io Il Vabbè ho capito L'ho ucciso perché tu mi hai dato il caricatore Cazzo vuol dire Cazzo certo Aha visto Non mi devi dare il caricatore Perché già ce l'ho Menomale Perché io me ne avevo anche dimenticato Dammi il potozze Bastardo Dammelo tutto Proteggo la vita amico mio Ma c'è una porta aperta È normale Si è sempre aperta Ok vuoi rimetterti qua Chiudo questa Si mi raccomma prima Ok c'è qualcuno sotto dove eravamo noi Non lo vedo E' ucciso Che puttana È vivissimo questo Affacciati brutto bastardo Mi ha distrutto le braccia Mi ha distrutto un po' tutto Ho usato un grizzere Ho usato un po' tutto Ho ucciso uno Ma sei matto? Come cazzo hai fatto? Ho ucciso uno Ma dove sei? Sono sotto da dove siamo spawnati Nooo L'avevo preso in faccia Ma non muore Come si uccidono le persone Ve lo potevi dire Che stava arrivando di là Non lo sapevo Hai ragione scusa Perché se non lo si fa a voi Non si fa a nessuno Sai bello una volta Te lo droppo E cade Se lo mangia Guarda Mi metterei a piangere In fondo al corridoio c'è uno In fondo al corridoio Cazzo Se eri dietro quella scatola Sei morto Ma non hai del metto amico Tanto non serve a nulla Lo vedi là in fondo? C'era uno che mi guardava Penso fosse quello che sparava qua silenziato Quindi non ti muovere troppo E stai attento Alla tua sinistra Chi è qui fuori E c'ha un fall silenziato Magari era il fall che ti ha rubato No perché non era silenziato con le mie rubate Ma ce l'ha messo lui Esatto Dobbiamo riprenderci ciò che è nostro Il fall La dignità Aspetta Aspetta C'è lo scavo qui di fronte Sta aprendo la porta lo scavo Dal tunnel? Ok l'ho fatto lo scavo Ah lì c'è una porta ok Mi sta guardando ancora a sinistra Ok sta arrivando il player mi sa Morto Vediamo cosa aveva questo qua Il saiga Vabbè mi si prende tutto Una zaria Io ho prima il caricatore Come stai messo a vita ti hanno fatto male? Mi ha tolto più o meno 100 di vita in totale Ora mi metto a curare qui dietro C'è qualcosa che posso lotare io da loro? Sì ci ho lasciato A quell'altro morto la sua arma About half Che deve avere 40 colpi Si ricarica Sì 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 Sento qualcuno camminare pianissimo nel tunnel Ok A meno che non è tipo Potrebbe essere quel player Cioè sai quando ho quei rumori pianissimi proprio Sì però ci potrebbe stare che lo senti O forse no Forse eri te che lottavi Perché fa un rumore simile Eh sì esatto Cioè non saprei dirtelo Non li conosco troppo i suoni di sto gioco Quindi è solamente per darti l'info Che almeno stai un po' attento Facciamo così e lo sapremo Ok sembra non ci sia nessuno Si è buttato così Ok adesso ho tanta paura Mi ricordo che in sta parte in un video eri tipo morto senza motivo Mi sa che voi era nei momenti di ultra desync Si Ora c'è arrivato questo Sa dove siamo noi E non sappiamo dove è lui Passiamo di qua Andiamo a sinistra dove Dove avevamo paura Ah proprio qua Ah dalla porta Maia cazzo di filo spinato però Porca droia Che è andato? Allora ne ha ucciso uno Uno scav qui di fronte Ha ucciso Sai che devo vedere Ok no non sto sanguinando La morfina a cosa serve? Ti serve per La stessa cosa dei painkiller Se ti rompi la gamba Metti la morfina al painkiller E puoi correre Se ce l'hai a zero Voi c'è una cassa d'armi Se vuoi dotare Magari ci fai soldi Aspetta ma quello è un player morto Come li distingui? Come li distingui? Aspetta Ti vuoi che corre? Arriva da dove abbiamo ucciso quello lì? Ah no Ma l'audio Io lo sento ovunque Perché? C'ho saputo chi ti batto? Sbuti cosa c***o Che c***o ci aveva da andare? Non c***o Mi sta arrivando un altro Ricordo che ci mettiamo sempre nel quel punto rialzato di prima Si Si chiama ponte Ok Dice che c'è qualcuno lì Che ci sia salito Cosa avevi amico? Parlami Hai uno zaino? No Allora vieti a prendere questa MBSS Cosa c'ha dentro? Dei finkiller Buono Te li lascio dentro Grazie Penso di vedere il player Ebbe un problema Perché io non vedo Mi riesco a capire Si? Eh dove Dove ti ho fatto vedere il video che ho saltato io? Dove hai saltato o dove sei caduto? Io l'ho preso in Ho visto il sangue sull'interno Penso sia morto Sono piuttosto sicuro Ma è fermo? Cioè è tipo morto in piedi? Perché ho capito dov'è E infatti gli ho sparato anch'io Penso sia tipo morto Inginocchiato contro il muro O qualcosa del genere Esatto Contro la porta Ma va a fangu Ma che c***o Gli ho sparato un po' così Zitto zitto E quella nostra a sinistra Ha aperto la porta Oh no no Aspetta ho capito Quello lì Che sparava col silenziato Penso sia già estratto Ah può essere Perché c'è la porta qui aperta La richiudo Meglio la possiamo usare? Sì 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 Vai saliamo Da dove c'è il cadavere morto brutto? Porca puttana Poverino scusami Ma era vivo? O era un altro cadavere finto? Era uno scav player Poverino L'hai distrutto Però È il mosi in nano Ah no Aspetta c'è un altro Vedo il suo cadavere rotolare Oh aveva una flash Qui sono sul ponte Ok Qui sono dietro Sto salendo Chiudo la porta Un attimo Un attimo Ok Qui sotto Al consigo O me cazzo Fai a sentire Sei mai in buillo è ucciso come cazzo fai a sentire ok ricarico ah no è un toz come fa ad essere un tozzo col corpo da mosin mi stai dicendo sembrava un mosin anche a me ovviamente basandomi tipo su quello di hunt il mosin guarda che ti sento stavo controllando i colpi che non voglio coprirti no dai mi ha messo un po' di colpi e poi mi li ha ritolti perché questi caricatori quando arriva già a 50 basta te li togli e poi li devi rimettere da 50 in poi non so perché c'è sta stronzata ok nearly full quant'è sono rimasti dei giocatori uno era lì morto uno era estratto ma c'è un cadavere uno sicuramente estratto dove sei dentro i bagni ah questo è uno scav era uno scav player ma esteticamente come fai a riconoscerli? vedi che io no non li riconosco è un cazzo che lo vedi guarda io come sono guarda i miei pantaloni guarda tutte le mie guarda lui cioè lui c'ha i pantaloni larghi lui è molto lui è molto base quindi questo mi stai dicendo ciao allora ah ci avevi una press armor ecco perché non morevi mi smetteresti di ammazzare gente così a sangue freddo li ammazzo a sangue caldo non riscaldo un po' sono sopra io ok io controllo sotto che non arrivi nessuno vedo il cadavere di quello che hai massacrato io sentivo uno che sparava un po' fortino sto salendo io entro dal buco veramente non mi sento al sicuro qui è sdraiato in fondo è sdraiato in fondo mi devo curare eh anch'io è nel bagno è nel bagno è nel bagno prima mi piace di curarti il tasto sinistro per annullare sento correre fuori ok ancora nel bagno bagno era sopra o sotto? è sotto la prima porta a sinistra merda quanto sono messo male era sdraiato in fondo quello era per forza un giocatore eh sì 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 merda mi ha ucciso eh sì 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 Hanno risparato al tuo corpo, vieni qua bastarda L'ha ucciso Boh, prendi Prendi il mio caricatore così almeno non è buttato Ti consiglierei di estrarlo così almeno Infatti lo vado a fare subito Però prima prendo la tua pistola Eh, quindi è anche quella che almeno non la ripompo, è già pompa Grazie